Sono giornate importanti per quanto riguarda la formazione per gli enti locali, per gli amministratori ma anche per chi dirige i nostri uffici nei comuni, nelle province. Abbiamo iniziato con un corso di formazione sul nuovo codice degli appalti, stiamo proseguendo qui a Novi Ligure sul tema della contabilità e della nuova materia che riguarda la gestione del bilancio, proseguiremo nei prossimi giorni con un altro corso di formazione sulla gestione del personale. Sono tre temi di estrema importanza che richiedono un aggiornamento, una riflessione, uno studio. Codice degli appalti perché sappiamo che il tema della legalità e del controllo è un tema decisivo, nello stesso tempo abbiamo bisogno di tempi celeri nell'adempimento delle gare d'appalto e nella conclusione delle gare d'appalto. Per quanto riguarda i bilanci è evidente che da un lato ci dobbiamo scontrare con la scarsità di risorse ma dall'altro il passaggio che è stato fatto con la nuova contabilità è un passaggio decisivo. Mi pare, ci pare che stiamo andando nella direzione giusta ma adesso bisogna sciogliere alcuni nodi come il superamento positivo del patto di solidarietà e così via. E quindi anche questo sicuramente è un tema di estrema importanza. E così nella gestione del personale è evidente che il personale diventa un elemento fondamentale nella gestione degli enti locali e della cosa pubblica. Quindi questi corsi di formazione sicuramente danno un contributo importante a migliorare il lavoro degli amministratori ma soprattutto di chi lavora quotidianamente nella gestione degli enti locali.